Guardatela là in fondo la squadra di Ash che tanto stiamo temendo ragazzi perché ho paura di trovarmi davanti qualcosa di molto più potente di quanto possiamo aspettarci ragazzi Quindi benvenuti e bentornati in questo nuovo video della Pixemon Oggi salutiamo i campioncini di oggi che sono Vincenzo, KSM e Federico che hanno commentato con l'hashtag Minecraftita E ragazzi in questo nuovo episodio partiamo dall'isola di Ash Come nello scorso episodio abbiamo esplorato tutta questa parte qua di mondo io sono finito in mezzo alle frasche degli alberi della giungla di Bella Faccia Per appunto guardare e volevo chiedervi una cosa in questa intro di questo video ragazzi qual è il vostro Pokémon preferito della squadra di Ash Abbiamo Gengar, Dragonite, Dracovish, abbiamo Pikachu, Gigamax, Silphage e poi abbiamo Lucario Ovviamente ragazzi qua tutti quanti sappiamo che Dragonite è il mio Pokémon preferito insieme a Umbreon quindi per me è facile dirvi Dragonite Però commentate qua sotto nei commenti con l'hashtag Minecraftita dicendomi qual è il vostro Pokémon preferito Che ci tengo veramente tantissimo a saperlo ragazzi perché là in fondo abbiamo un campioncino fenomenale Che è pronto a spodestarci all'intorno di questo mondo da allenatore più forte tutti i tempi Anche se anche Kendal ragazzi a quanto pare sta allenando veramente moltissimo con la sua squadra Pokémon Quindi scopriremo più avanti cosa succederà Comunque sono nell'isola di Bella Faccia ragazzi perché mi avete detto Marco ma non è che magari dietro l'isola di Bella Faccia essendo che a sud è spawnata l'isola del Kyogre Shadow Perché mi avete detto è spawnato Groudon Shadow, è spawnato Rayquaza Shadow All'appello tecnicamente di questi tre Pokémon leggendari manca Kyogre Shadow Quindi non sono mai andato ragazzi e voglio scoprire insieme a voi se questa cosa qua è avvenuta per davvero o meno Chissà lo scopriremo fermi un attimo è un altro altare è un altare di Zapdos No ragazzi 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 vi ricordate che sull'isola di Loco vicino all'ispawner dei tre cani leggendari c'era l'altare di Moltres Questo potenzialmente potrebbe essere l'altare del Zapdos classico Quindi tecnicamente nell'isola della Mesa che è sempre su questa linea d'aria a sinistra Quello cos'è? Raga Cosa? Cioè se mi giro così? Oh lo vedo! È là in fondo! C'è uno spawner di qualche mob leggendario, post-post leggendario, Pokémon leggendario, qualunque roba leggendaria sia Andiamo a vedere, vi dicevo, vi ricordate che sull'isola di Loco a fianco dello spawner dei tre cani leggendari abbiamo trovato l'altare del Moltres classico Probabilmente questo è di Zapdos classico quindi potenzialmente nell'isola della Mesa che è in linea con quest'isola qua e anche quella di Loco Potrebbe esserci l'altare di Articuno Però fermi un attimo, cos'è sto spawner qua? Sembra una specie di spawner di Pa... Uh! È Marshadow! È Marshadow! Ci sono tutte le versioni di Marshadow ragazzi Abbiamo anche quella oro Che non ho mai visto nella storia dei Pokémon Ma scusatemi ragazzi Ma noi possiamo partire con tutta quanta questa epicità all'interno di questo video? Stiamo esagerando, stiamo esagerando in effetti Però fermi un attimo, questo qua dovrebbe essere Marshadow Shiny Questo ovviamente è quello normale Questo quello Shadow E questo è quello oro Che è la prima volta che vedo Però scusatemi, io posso lanciare i miei Pokémon contro di loro e provare a catturarli? No! Ha rimbalzato! Quindi probabilmente non abbiamo ancora sbloccato sta storia qua Che possiamo sfidarli e provare a catturarli Come vedete ragazzi rimbalzano Cioè le bolle non è che vanno dietro Cioè che le attraversano direttamente Ma a quanto pare rimbalzano Sono proprio dei veri Pokémon Ok, allora Abbiamo anche una cassa Ma a quanto pare Qua non è ancora spawnato niente Non c'è nessun'isola ancora di Kaiogre O nessun altro tipo di isola di Pokémon Shiny strano Ok, 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 ok Allora abbiamo fatto una bella scoperta come inizio di video In più direi che andiamo anche velocissimamente nella mesa ragazzi Per capire se riusciamo a trovare anche Firefang Fermi un attimo E Shadowclaw Tanta roba ragazzi Come mosse Molto 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 bene Comunque Non so se molti di voi ci hanno fatto caso Ma ragazzi Avete visto che ho il bellissimo fosse di Dracovish Nell'inventare Eh, forse non ve l'ho detto nell'intro Comunque Dicevo Andiamo un attimo nella mesa Perché a questo punto Dato che abbiamo esplorato quello che volevamo esplorare Nell'episodio di oggi di Bella Faccia Dobbiamo andare nell'isola della mesa Perché appunto voglio capire Se da qualche parte Si nasconde lo spawner Lo spawner Perché lì c'è una montagna In effetti Vi ricordate che comunque Uno dei primi Pokémon leggendari Che abbiamo catturato È stato su quest'isola qua Ed è stato comunque Graudon Con il vulcano Dietro a questa montagna Ma in effetti Noi Questa parte qua di mondo Non l'abbiamo mai esplorata Perché questa parte qua L'isola della mesa È sempre stata sotto Al tiro dei Team Rocket Quindi Ci siamo sempre allontanati Non abbiamo mai fatto caso Quindi proviamo a vedere Se anche su questa montagna Perché queste qua sono Le tre isole Con le montagne più alte Quella di Loco Quella di Bella Faccia È questa qua Lì c'era il vulcano Questa montagnetta qui Non ha nulla C'è un Loudred Lì in fondo Con un Aaron Qua avevamo Il Moltres E il Moltres Due spawner di Moltres Uno a fianco all'altro Mi ricordavo Ma qua Abbiamo un'altra montagna Oh Allora Fermi 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 E Articuno Ragazzi È lo spawner di Articuno Vuol dire che abbiamo trovato I tre modi Per ottenere I tre uccelli Classici Tantissima roba Molto bene Sono tanto 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 felice Ragazzi Perché comunque Si fanno sempre Delle scoperte assurde Abbiamo trovato Tecnicamente Un modo Per trovare Marsciado Abbiamo trovato Anche un modo Per trovare I tre uccelli Leggendari Classici Però non so Come poterli ottenere Ragazzi Perché Non hanno Delle pietre Loro Cioè Non ci sono Degli orb Come per gli altri Tre uccelli Leggendari Sia normali Che di Galar Lo scopriremo Assieme Lo scopriremo Assieme Ragazzi Comunque Nell'episodio Nell'episodio di oggi Io volevo potenziare Un pochino La mia squadra Pokémon Ci stiamo dirigendo Direttamente Verso casa nostra Che dovrebbe essere Più o meno Dietro questi alberelli E devo mostrarvi Innanzitutto Un disegno Dei campioni Di oggi Che è di Mario Se non mi sbaglio Che ci ha fatto Un bellissimo disegno Di Squirtle E in più Io da qualche parte Devo comunque sconfiggere Un boss Perché non sono contento E nell'episodio di oggi Noi dobbiamo catturare Dracovish Dobbiamo potenziare E migliorare La nostra squadra Pokémon Allora con molta calma Planiamo E volevo mostrarvi Allora O il moviliner Che ho catturato In uno dei scorsi giorni Ragazzi Che non vi avevo mai mostrato Ma anche Non era forse Non mi ricordo Se Mario si chiamava Il ragazzo Ma hanno già un battito Come ci sono arrivato a Mario Forse c'era un altro disegno Di un altro Mario Che devo mettere Nei prossimi giorni Ma abbiamo Gian Battista Che è un campione Che ci disegna Un bellissimo Gengar Ragazzi Quanto è tenero Questo Gengar State facendo Di disegni Veramente bellissimi Ragazzi Complimenti Continuate a mandarmeli Che sono super felice Di mostrarli All'interno dei miei video Ragazzi Grazie mie di cuore In più Come vi ho detto Ragazzi Ho catturato Un bellissimo moviliner Che ho messo Direttamente qua Questo dovrebbe darci La possibilità Di potenziare I nostri Pokémon Vi ricordate che Pikachu Ragazzi Fermi un attimo Ah Abbiamo un Pikachu Che ha Che è una specie Completamente strana E che non vuole Imparare le mosse Di tipo elettro Scusate ma che Pikachu Ah ma c'ha la coda Diversa Fermi Ma è un Pikachu Diverso Allora Che tipo di Pikachu È scusatemi Non è Shiny Non è nessun tipo Di Di mossa speciale Però Abilità è statico E Ok Allora Proviamo a vedere se però Da qualche parte Abbiamo un altro Pikachu Perché a sto punto Ragazzi Se questo Pikachu Qua ci sta facendo problemi Potremmo controllare Se non abbiamo Un altro Pikachu Quindi dobbiamo andare A catturare un altro Cavolo Ma questo qua Abbiamo pure potenziato Al 44 Questa è una sfortuna Ragazzi Allora Facciamo così Dato che abbiamo bisogno Di catturare un nuovo Pikachu Io ho messo a craftare qua Delle altre ball Delle altre timer ball E queste cose qua Perché ho letto Molti dei vostri commenti Mi avete detto Che le timer ball Sono molto 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 utili Quindi a sto punto Ho pensato Metto direttamente Le timer ball Qua dentro Metto i pulsanti E ci facciamo un bel po' Di timer ball Poi se non mi sbaglio Qua avevo altri dischi Di ultra ball Che quasi quasi Io metterei via Perché tanto ne abbiamo Uno stack e 15 Quindi per ora Siamo messi molto 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 bene E rimettiamo via i dischi qua Poi abbiamo tantissime Xp Candy E tantissime altre robe Interessantissime Però prima di tutto Prima di utilizzare Questo Dracovish Io volevo Catturare quindi Un nuovo Pikachu Che sicuramente Sponerà qua in zona E utilizzare questo Move Reiner Per migliorare un attimino La mia squadra Perché Lucario Ragazzi Ha un'infinità di mosse Che può reimparare Tipo Force Palm Che può imparare A posti calmamente Poi abbiamo Vediamo cos'altro Di potente Abbiamo da poter imparare Non tutte mosse Di tipo lotta Perché sennò è un casino Ovviamente ragazzi Voi consigliatemi Qua sotto nei commenti Delle mosse molto utili Che potrebbero Far imparare I nostri Pokémon Tipo mettere il Clow Sempre per Lucario Però dovrei controllare Se nella nostra casetta Delle mosse Uh È spawnato Uh È spawnato un Charizard Shiny Boss Leggendario Eh ragazzi Ragazzi però Qua la Pix Non ce la chiama Noi vorremmo Veramente avere Quella mega pietra Del Charizard X Però cavolo Kaiogra ragazzi Si serve Kaiogra e Geridos E anche Greninja Ci portiamo un attimino Con le squadre Almeno siamo sicuri Di poterlo shootare Allora Dove diamine trovo Kaiogra Qua in giro ragazzi Kaiogra Forse nel box Ecco nel box 6 Quindi Kaiogra E abbiamo Geridos Curiamo tutti quanti Cavolo ragazzi Che occasioni incredibili Avere quel Charizard Così Per non andare Neanche nell'isola Del Rayquaza Perché almeno Questo qua lo possiamo Non sento il rumore Di Minecraft Ok Ora sento tutto quanto Ver bene Signor Charizard Venga qua Che c'è un Prime Kaiogra Che lo vuole eliminare Mamma ragazzi Molto interessante Questi episodi qua C'è tanto pepe In gioco Perché dobbiamo ancora Provare a catturare Neanche il Dracovish Che sono super curioso Però a surf Dovremmo shottarlo Dai prendi il volo No quanta vita Charizard Ma quanta vita Charizard Io oggi devo completare La squadra Di Ash Ti prego Dacci qualcosa Dacci la mega pietra Dacci la mega pietra Non ci dà la mega pietra Ragazzi Non ci dà mai la mega pietra Mi sa che non potremmo Mai averlo Va il plume Perché vuoi sfidare Il mio Prime Il Kaiogre Ragazzi È troppo difficile Non otterremo mai più Quella mega pietra A meno che Kendall Non ce la scambi Però Ho distrutto un fiore Però ragazzi Non ce la faremo veramente mai Allora Rimettiamoci la nostra squadra Pokémon Quella vera Allora Con molta calma Dragonite Torna qua E poi togliamo Geridos E togliamo Questi giovani In fuoriclasse Geninja Tutto quanto Perché ci serve Il nostro Lucario Ok Riportiamolo direttamente Qua in squadra Allora Con molta calma Torniamo da Muvriner Perché anche Dragonite Può attrare E imparare un sacco Di cose interessanti Abbiamo un oltraggio Che sicuramente È da far imparare A posto di Twister Poi abbiamo Thunderwave Ragazzi Che è una mossa Che sappiamo tutti quanti Quanto è fondamentale Su un Dragonite Thunder Punch Anche Hurricane Allora Vorrei fare comunque Un Dragonite Diverso Da quello che già ho Ragazzi Perché se no È troppo uguale Per esempio Dragon Rush Al posto di Wing Attack Potrebbe essere utile E anche Fire Punch Per le battaglie Potrebbe essere tanta roba Silph C'è da ragazzi Può imparare Tanti tipi diversi Di mosse Perché comunque Ha anche mosse Tipo Coleottero Quindi First Impression Ragazzi È molto interessante A posto di Fury Cutter Glielo faccio imparare Poi Vediamo un attimino Cos'altro abbiamo Che possiamo dargli Abbiamo per esempio Brutal Swing Che è un'altra mossa Di tipo buio Che al posto di Lear Potrebbe essere molto utile Gengar Gengar ragazzi Abbiamo Dream Eater Cavolo ragazzi Sto Gengar qua È bello che potente Al posto di Confuse Ray Lo facciamo imparare Ma ha qualcos'altro Di utile X Che è tipo Spettro no Shadow Punch No Vediamo cos'altro Possiamo far imparare Lick neanche Spite nemmeno Direi che il nostro Gengar È messo molto molto bene Charizard Shiny invece Ragazzi è già potenziato Se non mi sbaglio Ok Interessantissimo Interessantissimo Allora noi dobbiamo andare Quindi a cercare Un Pikachu Da qualche parte Qua in giro Prima di poter Uh Ragazzi Ma ce l'abbiamo chiamato Questo Ma com'è il 44 Ragazzi è uguale al nostro È uguale al nostro Pikachu Campione Vieni qua Pikachu Ma mi avete sponato così davanti Dove è andato a finire Boh Allora Intanto questa Pixel Qua ragazzi Ve l'ho detto 60.000 volte Che si bagga Allora Facciamo così Proviamo a catturare Dracovish Poi magari un Pikachu Ci uscirà da qualche parte Però Vediamo un attimino Vediamo un attimino Eh Potenziamo la nostra squadra Ancora un po' di più Perché non so a che livello esca Però Dobbiamo aspettare sicuramente Il mio Dragonite addormenta Dobbiamo aspettare un attimino Che si carichi Qua La zona Del macchinario Appunto Dei fossili Quindi possiamo fare in tempo A curare i nostri Pokémon Perché il Dragonite addormentato E cercare un altro Pikachu Ma sta diventando sempre più piccolo Ma che cavolo Che figata Bello Vuol dire che diventa sempre più minuscolo E piano piano Poi tra un po' vedremo Il Dracovish Uscire dal fossile Allora Sono super curioso ragazzi Funziona assolutamente in questo modo Allora Vediamo un po' qua C'è un altro Pikachu Uh Vieni qua All'11 Oh cavolo ragazzi All'11 è bassissimo Dove è andato Vieni qua campione Ma come Ci ha distrutto la Ultra Ball Pikachu Entra dentro la Ultra Ball E roppere le scatole Che abbiamo già preso Sono curioso di vedere il Dracovish Ragazzi Andiamo a vederlo subitissimo Sentrate Devi togliere che sei al 5 Sei inutile Vediamo Dove è andato Non c'è più niente Ok Boh Sento anche un rumore strano Ah Era già qua nel nostro inventario Il nostro Pikachu Con Nazzle Tewip Nasty Blot E Thunder Wave Ok Allora Questo qua Natura Ardy Abilità statico Vediamo se questo qua Può imparare Almeno delle altre mosse Di tipo Elettro Perché sono super curioso Ragazzi a questo punto Per vedere se puoi impararle Vediamo qua Pikachu No perché forse credo Che sia troppo basso Di vita Però le mosse di tipo Elettro ce le ha già Your Pikachu Was unable to learn Thunder Shock Quindi non puoi imparare Thunder Shock Per copa del suo tipo Di specie Io non sto capendo Perché Pikachu Ragazzi Non possa imparare le mosse Riuscite a dirmelo voi Qua sotto nei commenti Voglio veramente capirlo Intanto qua Guardate chi sta uscendo Ragazzi Dal suo piccolissimo fossile Un bellissimo Dracovish Ragazzi Super Interessante Allora Per noi l'importante Comunque avere tutti quanti Pokémon di Ash Quindi mettiamo via Questa roba qua Che per ora è inutile E anche questa roba qua Perché credo che tra un po' Lui spaccherà la teca Non so come funziona È la prima volta Che in questo mondo Ottengo un fossile Ma sta uscendo ragazzi Sta uscendo dalla teca Ma è un po' troppo Signor Dracovish 3% Manca solo pochissimo Ragazzi Ed è già bello Che grande 1% Vediamo cosa succede Insert Pokéball Quindi lo prendiamo Così semplicemente Voglio prenderlo Con qualcosa di ignorante Tipo una Cherish Ball Vieni Retrive Pokémon Ok Quindi Oh che bella No è geniale Quindi facendo così Posso prenderlo Oh Dracovish In una Cherish Ball A livello 1 No vabbè ragazzi Togliamoci a Arizard Un attino Dracovish In una Cherish Guardatelo Abbiamo Tutta La squadra Apposta Per Ash Ragazzi Abbiamo un Xpknd XL Oh sì che l'abbiamo Ragazzi Qua potenzieremo In un prossimo episodio Per bene La nostra squadra Di Ash Però almeno Lo livelliamo un pochino Vediamo già Che mo' Se puoi imparare Guardate quanto sta diventando Grande Di dimensioni Allora Con una Con una Con una sola Xpknd Ragazzi È già arrivato Al 28 A Water Gun Tickle Poi abbiamo Protect E Brutal Swing Togliamo Protect Per Ancient Power Bite Per Tickle E poi Vediamo Bello Dracovish Ragazzi Super carino Sono un sacco felice Ragazzi Perché finalmente Abbiamo catturato Tutta quanta La squadra Per appunto Questa battaglia di Ash Però vorrei capire In compagnia vostra Del Pikachu Ragazzi Perché non vuole imparare Le mosse di tipo elettro Perché Pikachu Ha un bel testardone Però È un bel peccato Perché si è fatta Una bella squadrettina Pokémon ragazzi Allora Noi ci vediamo In un prossimo video Spero che questo qua Vi sia piaciuto Cari campioni Vi invito A scegliere uno De due video qua davanti Che è molto importante A mandarmi i vostri disegni E a commentare con l'hashtag Minecraft E darmi consigli Qua sotto nei commenti Noi ci vediamo In un prossimo video ragazzi Dal vostro campione è tutto Cari campioni Ciao ciao